Dottor Staff, allora tre giorni di grandi eventi a Cepagatti per ricordare la storia del piccolo centro in provincia di Pescara con mostre archeologiche, convegni e laboratori artigianali. Vorrei sottolineare che non a caso noi siamo qui stamattina alla Camera di Commercio di Pescara che nelle stesse date al Porto Turistico organizza questa splendida iniziativa di Mediterranea. La logica con cui si muove, ci siamo mossi noi come soprintendenze in stretta collaborazione con il Comune Cepagatti e con l'Archeoclub d'Italia e Sede Cepagatti è assolutamente simile. Noi abbiamo il grande Castello Marcantonio riaperto al pubblico l'anno scorso che in questi tre giorni, venerdì, sabbe e domenica, viene aperto dalle 19 alla notte. Anche i nottambuli arrivano a Cepagatti e possono avere il piacere di visitare lo splendido Castello Marcantonio con i resti della grande villa romana nel suo sottosuolo con le suggestioni di una grande dimora nobiliare con 2000 anni di storia. Sindaco, tre giorni a Cepagatti per ricordare la storia del vostro centro. Sì, felicissima di esserci, felicissima di dare la mia collaborazione all'Archeoclub di Cepagatti e alla sovrintendenza. Siamo insieme nell'obiettivo di far rivivere il nostro borgo storico, il nostro centro cittadino che nel tempo è stato un po' trascurato. Ora c'è il bell'effetto del restauro del Castello, della Torre Alex. Questo potrà diventare il nostro punto di forza per il futuro perché abbiamo in mente veramente di fare in modo che Cepagatti attiri a livello emozionale, a livello esperienziale, un turismo che possa dare veramente risposta a quello che è il nostro centro storico.